Sì, la vicenda, cerco di riassumerla, è la seguente. A fronte di una sentenza del Tar che ha riconosciuto il diritto dell'arcipelago delle parole, i librai, che avevano diverse postazioni su tutto il territorio di Roma, tra cui anche a Via delle Muratte, l'amministrazione, quindi l'assessorato e il Dipartimento si sono attivati per l'identificazione dei posteggi, di cui, se non ricordo male, tra i 10 e i 12 dovrebbero risiedere in Via delle Muratte, con un banco tipo approvato dalla sovrintendenza, quindi l'iter è in corso d'opera, sono state fornite le mappe con le tipologie dei banchi che devono essere fatti in un certo modo, quindi approvato dalla sovrintendenza, e manca l'assenso del primo municipio, quindi l'assessorato sta attendendo da parte del primo municipio l'assenso per la parte di Via delle Muratte. Credo che ci sia una divergenza d'opinioni in merito alla utilità di questa tipologia di posteggi, che non sono posteggi di vestiario, ma parliamo di cultura, parliamo di libri, parliamo di qualcosa che in quel contesto non sponava, anzi forse era un coordinato con la città, con il luogo, piuttosto che vedere oggi statue viventi, bombolettari e il caos fatto persona. Quindi noi stiamo proseguendo in quest'iter, quindi a nostro avviso noi ci asterremo sulla mozione, perché la mozione interviene su una vicenda che è già risolta e già sta andando avanti, insomma manca solo l'assenso per il primo municipio. Siamo favorevoli a trattare il tema in commissione, se volete, chiamando il primo municipio a rispondere in merito alle perplessità, se ne ha, in merito alla concessione di questi posteggi. Grazie.